Si è in campione con quella ultima turno, Paraluce della Nura. Qui uno spezzone inedito su Rai Storia di Anton Giulio Magliano in un backstage. Regista e sceneggiatore nato a Chieti sarà ricordato dalla sua città in un premio internazionale che prevede quattro giornate con la partecipazione di personaggi del cinema, della tv, della cultura e della musica. I premiati e vari appuntamenti sono stati illustrati al Teatro Maruccino, direttore artistico dell'evento Davide Cavuti. Anton Giulio Magliano è un grandissimo regista, non solo quello ma è stato l'antesignano delle attuali fiction. Quando lui girava gli sceneggiati promuoveva la cultura, quindi nel segno di insegnare qualcosa perché molte persone purtroppo in quel periodo non potevano andare a scuola. È stato un grandissimo a cui dobbiamo questo tributo e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Abbiamo coinvolto un comitato istituzionale e un comitato tecnico-artistico preseduto da Michele Placido, il primo preseduto da Paolo De Cesare, c'è il presidente onorario che è l'onorevole Gianni Letta. Ci saranno tanti grandi ospiti, molti dei quali hanno lavorato proprio con Maiano. Giannini ha girato degli sceneggiati, mi viene da dire fiction, degli sceneggiati proprio con la regia di Anton Giulio Maiano ma anche l'onore a Giorgi nello sceneggiato Castigo. Il premio internazionale Anton Giulio Maiano vede il sostegno dell'assessorato alla cultura del comune di Chieti guidato dal vice sindaco Paolo De Cesare della Camera di Commercio di Chieti Pescara in collaborazione con la deputazione teatrale Teatro Maruccino e prodotto da Mute Art Produzioni, inaugurazione il 30 novembre. Avremo la serata inaugurale con la partecipazione di grandi artisti quali Eugenio Bennato che ha firmato una colonna sonora proprio in uno sceneggiato di Maiano, Vanessa Gravina e Edoardo Siravo. Poi una giornata dedicata alla scrittura perché Maiano partiva dai grandi testi degli autori senza tempo per proiettarli poi nel mondo televisivo e cinematografico e quindi l'omaggio è al nostro scrittore abruzzese Remo Rapino che ha vinto il campiello come tutti sappiamo nel 2020. Poi la giornata dedicata alle scuole perché le nuove generazioni possono avere una speranza Maiano è partito da Chieti e è diventato un grandissimo. Rete 8, il centro media partner dell'evento, la serata di gala del 3 dicembre dal Teatro Maruccino sarà seguita in diretta da Rete 8 dalle 20 e 30. Tra i tanti riconoscimenti, tre premi alla carriera a chi ha lavorato con Maiano. Sono Giancarlo Giannini, Eleonora Giorgi e Pino Donaggio. Poi avremo il premio alla regia a Carmine Elia che è il regista della Porta Rossa di Sopravvissute e di tante altre fiction e ci saranno tantissimi altri ospiti come Violante Placido, Lucrezia Guidone, Tembi Locke. Ecco questo è il premio internazionale dedicato ad una serie Netflix andata in America. Attraverso questa carmes Chieti si conferma un punto di riferimento culturale per l'intera regione Abruzzo ha detto il vice sindaco Noche, presidente del premio Maiano, Paolo De Cesare. Esattamente una grandissima personalità che ha fatto la storia della televisione e del cinema italiano, ma non solo, al quale abbiamo voluto tributare questo progetto che non si ferma solo con questo premio di carattere internazionale ma che va oltre con la realizzazione di un docufilm dedicato allo stesso Maiano che si ambienterà e girerà nella sua Chieti, dove è nato, e che darà la possibilità attraverso la sua persona di far conoscere meglio la nostra città quanto sia importante a livello culturale. Ci sono delle ore fuori del tempo e quelle lo furono fuori del tempo e della realtà. Grazie. Grazie.